Il malessere espresso in questi giorni dei lavoratori dello stabilimento sistemi sospensioni sul Mona è da tempo a noi noto. Sono mesi che abbiamo denunciato le problematiche che lo hanno portato in essere. Riteniamo che sia stato determinato da una gestione scelerata la parte di coloro che sono responsabili della stessa nei confronti dei lavoratori e della produzione. E quanto scrivono in una nota FIM CISL, UILM, UGL e RSA chiedendo un confronto con l'azienda. Premesso che il nostro stabilimento è il primo fornitore di SEVEL ricordano i sindacati, recentemente si è presentata la questione relativa all'ampliamento dei 18 turni di cui tutti noi siamo a conoscenza in conseguenza dell'aumento della richiesta di volumi produttivi di oltre 1.160 furgoni al giorno e circa 3.000 veicoli in più al mese rispetto ai numeri dell'anno scorso. Nonostante ciò sindacati e RSA hanno chiesto ripetutamente alla direzione aziendale che la gestione dei 18 turni fosse organizzata in modo tale da consentire un minor carico di lavoro sulla pelle dei lavoratori. Purtroppo registriamo che l'ottusità aziendale ha causato una situazione di assoluta incapacità gestionale dell'officina portando i lavoratori a uno stato di legittima esasperazione. Pertanto riteniamo che non sia più rinviabile l'apertura di un confronto immediato con la direzione aziendale su alcuni punti, organizzazione del lavoro, ottimizzazione dei 18 turni, ripristino del reparto di manutenzione elettrica e meccanica con le precedenti potenzialità, analisi preventiva con esposizione dei tempi di lavoro, richiesta di una bacheca sindacale all'interno delle UTE, risoluzione del problema relativo al trasporto per i lavoratori pendolari e ripristino del corretto funzionamento del servizio mensa adeguato alla turistica in uso. Grazie a tutti.